Non esageriamo. Pupi siamo, signor Fifi. Lo Spirito Divino entra in noi e si fa pupo. Pupo io, pupo lei, pupi tutti. Dovrebbe bastare, santo Dio, essere nati pupi per volontà divina? No, signore. Ognuno poi si fa pupo per conto suo, quel pupo che può essere o che si crede di essere. E allora cominciano le liti, perché ogni pupo vuole portato il suo rispetto, non tanto per quello che si crede di essere, ma per la parte che deve rappresentare fuori. A quattro occhi nessuno è contento della sua parte. Ognuno di noi, di fronte al proprio pupo, gli tirerebbe uno sputo in faccia, ma dagli altri no. Dagli altri lo vuole rispettato. Questa è la vita, caro signor Fifi, conservare il rispetto della gente, tenere alto il proprio pupo, quale si sia, per modo che tutti gli devono fare sempre tanto di cappello.